Salve a tutti amici di Spezia Tech, sono Fulvio e siamo qui oggi con la recensione di un nuovissimo smartphone. Stiamo parlando dell'ultimo arrivato in casa Samsung S21 Ultra 5G. Appena ho visto la presentazione ho deciso di preordinarlo subito dato che mi ha davvero stuzzicato questo smartphone, ovviamente in colorazione Phantom Black, che è davvero fantastica, ed ero più che altro curioso di provare questo nuovissimo Exynos 2100 per far capire a me e a voi se veramente questo processore sarà la svolta di Samsung e se ha migliorato tutte quelle piccole criticità che abbiamo riscontrato nella serie S20 dell'anno scorso. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a scoprire come si è comportato nell'utilizzo quotidiano questo S21 Ultra, questo ovviamente dopo la nostra sigla. Bene ragazzi, eccoci qui per parlare più da vicino di questo S21 Ultra 5G. Partiamo dalla nota dolente di quasi tutti i top di gamma che verranno in questo 2021, e cioè la confezione. Come Apple ci ha insegnato, Samsung, anche lei, ha deciso di rimuovere l'alimentatore dalla confezione dei suoi smartphone. Scelta che non riesco ancora a condividere, dato che parlano di un problema di sostenibilità, di riciclaggio, però mi fanno arrivare un cellulare pieno di plastiche sul retro e sui bordi e quindi diciamo che la scelta non mi è tanto chiara. Ma andiamo a vedere più da vicino quello che è il protagonista di questo video. Stiamo parlando quindi di questo S21 Ultra in colorazione Phantom Black. Appena ho visto la presentazione e ho visto questa colorazione, l'ho subito preordinato in questa colorazione, che vi posso assicurare è davvero fantastica. Forse la fotocamera non rende un pochino sporco, ma vi posso assicurare che è davvero uno smartphone premium al tatto, ma soprattutto alla vista, e mi piace molto come ha gestito il reparto fotocamera quest'anno su tutta la gamma S21 rispetto alla gamma S20. Sarò molto critico su molti aspetti perché vi dico che prima di testare questo S21 Ultra ho testato l'S20 Ultra, però in variante americana, quindi con la variante Snapdragon. Quindi posso dare qualche giudizio su quella che è prestazioni, autonomia e soprattutto riscaldamento dello smartphone. Ma andiamo a vedere quella che è la scheda tecnica di questo smartphone. Questo smartphone ovviamente arriva con una scheda tecnica completissima, con il nuovo Exynos 2100, in tre diverse varianti, 128 e 256 di memoria interna con 12 GB RAM, e una variante con più memoria di RAM, 16 GB con 512 GB di memoria interna. Partiamo dal presupposto che Samsung ha rimosso l'espansione di memoria, e quindi se volete sfruttare al massimo le qualità fotografiche di questo smartphone, vi conviene partire almeno dalla configurazione con 256 GB di memoria interna. Abbiamo poi le memorie UFS 3.1, un'uscita TEP-C dedicata ad audio e video, quindi 3.1, il Wi-Fi non è più un Wi-Fi 6, ma è un Wi-Fi 6 che va ancora a migliorare la stabilità della ricezione Wi-Fi, un Bluetooth 5.2, e tutte le funzioni text wireless. Per il resto della scheda tecnica ne parleremo a step, e partiamo proprio dal design e la costruzione di questo smartphone. Design e costruzione che abbiamo un frame in metallo, abbiamo un retro e un fronte in Gorilla Glass Invictus, quindi molto più resistente rispetto ai Gorilla Glass 6, quindi è davvero pregevole come è stato trattato questo vetro, che non sembra vetro, addirittura al tatto alcune volte sembra un alluminio satinato, quindi ottimo lavoro da parte di Samsung. È abbastanza pesantuccio, pesa 227 grammi, è un pochino sbilanciato il peso verso le fotocamere, ma col tempo ci si fa l'abitudine. Ovviamente è costruito tutto relativamente alla resistenza d'acqua e polvere, quindi il P68, ed ha una vibrazione davvero top di gamma. Ma andiamo a quello che è il cavallo di battaglia di Samsung, quindi parliamo del display. Questo smartphone arriva con un display Dynamic OLED da 6,8 pollici QHD+, con la chicca di quest'anno e la frequenza variabile del refresh rate da 10 Hz a 120 Hz. Una delle pecche degli smartphone Samsung era quella dell'autonomia, lo sappiamo tutti, e grazie sicuramente all'Exynos e al nuovo processo produttivo a 5 nanometri questo è migliorato, ma penso che una delle scelte migliori sia stata questa del refresh rate variabile. Quando lo schermo è statico, quindi il nostro refresh rate si abbasserà circa 10 Hz, ma quando saremo in movimento adatterà automaticamente il refresh rate questo smartphone risulterà sempre fluido e scattante lato display. La luminosità arriva a 1500 nits sotto la luce del sole, è un pochino curvo, ma è il giusto per dargli il sentore da smartphone premium, dato che non va solamente ad influire sull'usabilità di tutti i giorni. Parliamo quindi del nuovo processore Exynos. Questo Exynos arriva con un processo produttivo a 5 nanometri. Il cellulare è sempre fluidissimo e quello che mi interessava quest'anno era soprattutto il discorso delle temperature. Dato che ho provato l'S20, l'S20 Plus 5G e tutti i cellulari dell'anno scorso soffrivano davvero di temperature elevatissime appena usavamo un pochino in più il nostro smartphone. Questo smartphone lato temperature si comporta ottimamente, non come lo Snapdragon. Non ho provato ancora l'888, quindi mi riferisco sempre all'8065. e scalda veramente in pochissime situazioni quando registriamo video in 4K oppure quando giochiamo a giochi veramente stressantissimi. Per il resto il cellulare è sempre a temperatura media e non darà mai fastidio alla mano. Parliamo invece di quello che è il software, l'ecosistema che Samsung sta evolvendo man mano ogni anno. Arriva questo cellulare con Android 11 aggiornato alla One UI 3.0 e Samsung è quel produttore che sta aggiornando davvero in maniera velocissima i propri smartphone ed è la prima dopo Google praticamente. Ed ha creato un ottimo ecosistema. Ormai il software è stabilissimo, abbiamo incominciato a conoscerlo benissimo. Ecosistema infatti sto usando in abbinata questo Galaxy Watch 3 che reputo probabilmente il miglior wearable sul mercato. Ne parleremo in un futuro video. E quindi un plazo a Samsung per il lavoro che sta facendo e per come sta gestendo il discorso aggiornamenti e il discorso ecosistema per migliorare l'usabilità dei suoi prodotti e quindi per creare anche una fidelizzazione tra gli utenti. Ottimo lavoro. Parliamo ora di quello che è l'altro argomento di cui vorrei parlare un pochino più approfonditamente e ciò è l'autonomia. Vi ho detto che ho provato l'S20 Ultra in versione americana quindi con lo Snapdragon 865 e lì la batteria era stratosferica riuscivo a fare un giorno e mezzo di utilizzo con un utilizzo davvero, davvero intensissimo. Questo Exynos 2100 abbinato a una batteria da 5000 mAh continua a dare degli ottimi risultati. Con uso di casa, quindi in questi giorni che purtroppo, anche se siamo in zona gialla, tendiamo ad essere un pochino più responsabili ad uscire meno, riesco ad usare il cellulare in Wi-Fi per tutta la giornata anche per uso lavorativo e riesco ad arrivare tranquillamente con le 7-8 ore di schermo in Wi-Fi. Mentre quando andiamo in rete 4G, 5G non posso darvi ancora giudizi dato che nella mia zona non è ancora attivo, quando andiamo in rete 4G questo smartphone comincia a consumare un po' di più, non scalda, la giornata la copriamo ma non aspettiamoci un top battery phone come penso che sia la variante Snapdragon. Arriveremo sempre a fine giornata con un 5-10% di autonomia residua ma se stresserete tantissimo, ma dico tantissimo a livello lavorativo email, in push, sincronizzazioni di più account come mi è capitato a me in alcuni giorni è capitato che ad ora di cena ho dovuto dare una ricarica al nostro smartphone. Ma una delle pecche che mi sento di criticare a Samsung è proprio la non innovazione lato ricarica rapida dato che tutti i smartphone stanno arrivando con ricariche che superano tranquillamente 50, 60, 100 watt abbiamo visto cose veramente turche e mi dà un po' fastidio che questo smartphone arrivi con una ricarica massima con filo a 25 watt wireless a 15 watt ovviamente è inclusa la ricarica inversa per caricare i nostri wearable o le nostre cuffie Samsung. Parlando di quello che è il lato mobile quindi ricezione auto e parte telefonica di questo smartphone questo smartphone arriva con un carrellino dove è possibile inserire due SIM gestito benissimo il dual SIM e abbiamo anche il supporto alle SIM la ricezione è nella media non l'ho trovata ottima come alcuni top di gamma ma assolutamente nessun problema si sente molto bene e sempre un applauso a Samsung che inserisce il filtro anti-spam. Ho voluto lasciare per ultimo la parte fotografica dato che Samsung ha puntato tantissimo quest'anno sull'upgrade della fotocamera di questo smartphone. Questo smartphone arriva con 4 fotocamere partiamo prima da quella per i selfie una fotocamera anteriore da ben 40 megapixel ottima ma se andiamo a vedere il retro del nostro smartphone abbiamo diversi sensori abbiamo un sensore principale da 108 megapixel che è equivalente a 26 mm abbiamo una grande angolare da 12 megapixel con un'apertura da 120 gradi abbiamo poi ben due fotocamere telefoto per lo zoom una da 10 megapixel 3x equivalente a un 70 mm e una da 10 megapixel 10x equivalente a un 240 mm questo smartphone arriva a zoom 100x ovviamente non ottico abbiamo una risoluzione ottica 10x e vi posso assicurare che le foto sono davvero eccezionali andiamo a vedere come vengono queste foto questo partiamo con la foto alla luna questa è una foto fatta al 100x non rende tantissimo come vedete addirittura i crateri serve una mano ferma ma finalmente è un 100x utilizzabile questo lo devo dire è ancora un diciamo un esercizio di stile ma rispetto ad S20 Ultra che il 100x era abbastanza inutilizzabile questo si riesce a tirare fuori qualcosina queste sono le piastre della stufa e queste sono scate a 100x diciamo che non è da buttare la foto i selfie vengono molto bene anche le foto con poca luce gestisce davvero molto bene colori e luci tende sempre un po' al giallino delle foto samsung ma stiamo parlando di foto davvero da top smart camera phone abbiamo poi questa è una foto fatta con 3x e vedete che la qualità è davvero ottima i colori sono gestiti in maniera eccelsa quindi davvero ottimo lavoro da parte di samsung questo è un esempio di come passa da una foto grandangolare una foto 1x una foto 3x una foto 10x guardate qui che dettaglio fino ad arrivare alla foto 100x che è arrivato fino alla cupola della chiesa e comunque riesce a capirsi la forma della foto e abbiamo ancora qualche piccolo dettaglio quindi un plauso davvero a parte di samsung beh che dire per concludere questa recensione cosa manca la parte multimediale i giochi sono davvero ottimi tutto è fluidissimo purtroppo manca il jack audio e abbiamo una qualità di audio stereo davvero ottima e ben bilanciata davvero top di gamma quindi arrivando alle conclusioni di questa recensione che dire samsung ha fatto il lavoro che doveva fare sulla gamma s20 migliorare quelle piccole cose che andavano migliorate per creare uno smartphone davvero completissimo per me le pecche sono due non c'è più l'espansione l'autonomia pensavo un pochino meglio per come ne hanno parlato di questo processore e un po' arrabbiato per la ricarica che è solo da 25 watt per il resto reputo questo samsung s21 ultra davvero il top di gamma da battere quest'anno per il lato android quindi che dire fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di questo samsung iscrivetevi al canale mettete un mi piace al video io sono Fulvio per Spazio Tech noi ci vediamo alla prossima recensione per la prossima recensione